Mille cavalli pronti a mettersi in vetrina tra stand e dimostrazione di abilità alla 49esima mostra nazionale attesa a Città di Castello dall'11 al 13 settembre. Un evento che trasforma la fattoria autonoma tabacchi di Cerbara in un villaggio dove tutto parla del mondequestre, dall'area dedicata ai finimenti a quella delle carrozze, dai box dove osservare gli animali da vicino fino agli spazi dedicati alle esibizioni. Novità di quest'anno in ritorno a Città di Castello nel contesto della mostra della disciplina del salto ad ostacoli che richiamerà in Alto Tevere tanti tesserati di asi e fise. Ritorna dopo sei anni che appunto non si faceva più, l'abbiamo fatto, vogliamo riportare il salto ostacoli a Città di Castello, quest'anno ripartiamo diciamo in sordina perché facciamo un trofeo di poni e un trofeo cavalli, quindi allarghiamo molto ai giovani e ai bambini diciamo. In più ci sarà un campionato nazionale asi riservato a tutti i tesserati asi. È per la prima volta che siamo riusciti a mettere insieme la FISE e l'asi in un programma a livello nazionale e siamo molto soddisfatti di questo perché sicuramente pensiamo che verranno tanti tanti tesserati, tanti cavalli a questa manifestazione. Per l'occasione è stata ampliata anche l'area della mostra con due ettari di terreno in più che daranno più spazio alle novità di quest'anno, tra queste una country village di ampio respiro. Tra gli appuntamenti chiamati a dare risalto alla mostra, quello che lega a doppio filo Città di Castello con l'Expo di Milano. Il 27 agosto infatti partirà dai padiglioni dell'Esposizione Internazionale, un trekking a cavallo che attraverserà l'Italia per giungere l'11 settembre a Città di Castello ed inaugurare la mostra. Sul fronte organizzativo l'associazione che pone le basi della mostra è al lavoro con le istituzioni per gli ultimi ritocchi sul fronte accoglienza, consapevoli che ogni anno l'evento richiama non solo a Città di Castello ma anche negli altri comuni centinaia di visitatori.